Buonasera e ben ritrovati. Visto che sono molto molto brava a fare i voi sovra e credo che effettivamente nessuno considerati gli ultimi video possa contraddirmi, ci riprovo. Oggi realizziamo un make-up sicuramente veloce ma che dà molta definizione e sensualità allo sguardo. Vado a realizzare la base veloce che abbiamo visto anche in altri contenuti solo con il mio correttore che è il Cancella Età di Maybelline. Mi si presta molto bene a questo lavoro, la mia colorazione è light e lo picchietto su tutto il viso e poi lo sfumo con la mia sponge di Emax Design. Per quanto riguarda invece il contorno occhi prendo il Regeneration Concealer di Nabla che possiedo nella colorazione Porcelain che è semplicemente bianca muro ma me la tengo e ce l'ho all'avuso insomma. zona perioculare, stesso discorso così a cuscinetto e poi con la mia sponge vado anche qui a sfumarlo e a renderlo il più possibile fondente con la mia pelle. Vi assicuro che non mi sto trasformando in un Simpson, mi rendo conto adesso solo in fase di editing che sembro molto gialla ma parola mia dal vivo andava tutto più che bene. Su questa base matte direi, un po' priva di vita, priva di senso, vado subito a donare radiosità nei punti strategici con il Glam Cushion Highlighter della collezione Dolce Diva di Kiko. Fantastico. Non volete provare il Flourish Filter di Charlotte Tilbury? Provate questo. Però promettetemi di mettere il prodotto sulla mano e prelevarlo con una sponge bagnata e strezzata e poi andare sul viso. Il risultato sarà simile. A questo punto, solito passaggio di contouring in crema e vado con il Match Stix di Fenty Beauty nella colorazione Amber, soprannominata dalla mia amica Simon, colorazione topo. Magari anche nella vita vera fossi davvero così veloce a sfumare il prodotto con questo movimento di polso super agile, la verità è chiaramente che qui è tutto velocizzato per due. Comunque il prodotto in sfumatura non crea nessun tipo di problema, è davvero molto facile, chiaramente ci fa un minimo di tempo e di precisione, motivo per cui tendo a scegliere, a preferire sempre prodotti in polvere per contouring e per bronzing perché li trovo più veloci. Fondamentalmente è questo, ma il risultato è molto molto bello. Per quanto riguarda invece il settaggio di tutto, vado con lei che è la regina delle cipri e questa è la Perfecting Powder della Mood Boost di Kiko. Non lei in particolare, ma lei e tutte le sue sorelle, perché in ogni collezione più o meno ne esce una simile. Ora non le ho provate tutte dalla prima all'ultima, non posso garantire che siano identiche, ma bene o male è questo concetto di cipria trasparente, iperpressata da me, soprannominata gesso da me, che mi sono cecata a un occhio. Vado sempre con un prodotto di Kiko, il Silky Bronzer della collezione Eden Escape, questo nella colorazione Unique Sienna, che non è così unique, perché fondamentalmente tutte le colorazioni due delle collezioni limitate di Kiko si chiamano Sienna. Comunque il prodotto è veramente setoso, un pack particolare in questo verde acqua, insomma, io quando l'ho sbocciato ho dovuto portarlo a casa, chiaramente con uno sconto, e trovo ragazze che sia veramente paragonabile a bronzer più blasonati. Vi dico solo che sto testando quello di Gucci e non sono così sicura di riscontrare differenze sostanziali che ne giustifichino la differenza di prezzo. Nel frattempo sono passata agli occhi, perché sono più veloce a truccarmi in velocità per due che a parlare in sottofondo, cioè, questo la dice tutte sui miei voiceover, e sto mettendo il Matte Metal Melted Shadows, ce l'ho fatta, di Huda Beauty. Questa è la colorazione, qui non so se ce la farò, Sto applicando solo la parte matte, sempre con il mio pennello di Friara, Friara, garanzia, l'ho detto mille volte. Quindi solo la parte matte, ben sfumata, il colore è bellissimo, un marrone medio neutro, un po' freddino, forse, comunque ho dedicato un video, ve lo lascio nell'info box a questo prodotto. Calcolate che qui ci sono dei tagli, sono appunto in velocità doppia e sto ancora applicando l'ombretto, quindi non è effettivamente la cosa più veloce del mondo, però non è neanche proibitivo. Quel minutino in più dovete averlo, devo dire che però il risultato secondo me è semplice e al contempo veramente d'effetto, però il punto luce nell'angolo interno dell'occhio non me lo toglie nessuno, perché è come il caffè, cioè non mi sveglio fino a che non ho fatto il punto luce nell'angolo interno dell'occhio. E vado a metterlo sempre anche in arcata sopraccigliare, perché altrimenti mi sembra di essere dormiente. Sto usando la Wow Glow Palette di Misauda, che è una palette di quattro illuminanti, carina, devo dire che ha dei punti di forza. Carina intanto che la uso così, soprattutto sullo zigomo, nha, boh, tendo a preferire comunque altro, ma ne parliamo in privato. Blush è il momento di De Balm, Hot Mama, che devo dire che nonostante l'età è vecchietto ma è gagliardo, perché è ancora bello scrivere. Questo corallo, che anche la mia pelle è comunque molto chiara e un po' freddina, riesce a sostenere, vado a stemperarlo con il pennello che ho utilizzato prima per il bronzer. È il momento dell'eyeliner, che a questo punto diventa fondamentale, perché nel look non c'è altro, e sto usando l'Epic Ink. No, era liquid l'ink, perché l'Epic era di NYX, ma uno come fa a avere un database nella testa e ricordarsi tutte le uscite, tutti i nomi, tutti i brand? Vabbè, comunque questo è nella colorazione marrone e tra l'altro è un marrone medio, non è un marrone caffè di quelli super intensi che alla fine sembrano quasi un nero. È proprio un bel marrone, con questo pennino di precisione ovviamente ci vuole un po' la mano chirurgica. Io ho esercitato negli anni questa abilità, anche se ora non faccio sempre l'eyeliner, quindi ci devo perdere un momentino in più, perché non sono così allenata, comunque l'effetto è veramente molto bello, oltretutto è un prodotto iper mega low cost, io non so quante volte l'ho comprato nella versione nera, nella versione nera waterproof, nella versione marrone. È semplicemente meraviglioso, vi dico che per il matrimonio ho deciso di investire, ho preso il climax o climax, che dir si voglia, di NARS, ovviamente nella versione nera. Si tratta di un'altra tipologia di eyeliner, ma sinceramente, considerato il fattore prezzo che, per mio conto, è sempre da tenere in considerazione, vince ancora una volta a mani basse Essence. Faccio attenzione non solo alla codina esterna, ma anche e soprattutto all'angolo interno dell'occhio, e poi ne faccio veramente un accenno nella riga inferiore, nella parte più esterna. Dieci minuti di accarezzamento ciglia con il My Toy Boy di Diego Dalla Palma. È il momento del contour delle labbra e utilizzo la Lip Shaper, close up Lip Shaper, come James Bond, uguale, di Nabla. Mamma mia, che cartina che sono. Ciao, finito, basta, è andata così anche stavolta. Finito, questo è il look. Ciao, statemi bene tutti.